La mia madre è laureata in ingegneria con tutti i voti altissimi. Il mio padre invece è tipo un artista. Dipinge, fa lo scultore. Ho una sorella più grande, si chiama Emma. Lei vuole fare l'attrice. I miei sono separati. Ma perché non riusciamo più a essere treci insieme noi? Ma noi chi? Noi quattro. Quando that moon gets big and right, it's a supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Grazie.